Attenzione news incredibile! Come mi avete chiesto ho ripreso a fare il vlog dato che tra 5 giorni partirò per Pesaro e quindi rinizierà una nuova stagione serve un nome alla serie ho pensato a Vlog Pesaro Edition ma è troppo semplice servono delle buone idee, scrivetemi nei commenti se ne avete e soprattutto iscrivetevi al canale attivate la campanella